Salve, salve da Marco Calabro per conto di Co-Credit, metà prezzo. Stiamo qua per vedere un orologio Skagen. Skagen è una prestigiosa azienda danese di orologi. Vediamo il prodotto. La prima caratteristica che vediamo del prodotto è la maglia Milano, ovvero sia il tipo di cinturino che l'orologio ha. Veramente molto bello, molto elegante. Andiamo invece all'orologio vero e proprio. Vediamo che l'orologio ha una numerazione romana alle 2, alle 4, alle 6, alle 8, alle 10 e alle 12, quindi numeri pari. Ed poi l'orologio, oltre alla scritta, vediamo, lo avvicino, ecco, vediamo la scritta Skagen Danimarca, oltre alla scritta, ecco l'ho messo un pochettino più a fuoco, oltre alla scritta Skagen Danimarca, vediamo che ha l'indicatore dei secondi e l'indicatore delle ore e dei minuti che sono estremamente semplici, sicuramente un prodotto di caratteristica minimalista. Vediamo l'attacco fra la cassa dell'orologio e la maglia Milano, anche esso è molto semplice, così come semplice è l'attacco, andiamo a vedere dell'orologio vero e proprio, però come vediamo ha una seconda sicurezza, cioè nel momento in cui andiamo a chiudere l'orologio, ecco lo sto chiudendo, nel momento in cui andiamo a chiudere l'orologio abbiamo una seconda chiusura di sicurezza, anch'essa con il marchio, vediamo con il nome, se riusciamo a metterlo, ecco qua, con il nome Skagen. Il modello che stiamo vedendo è il modello SKW2874, SKW è l'indicazione Skagen e questo prodotto ha un valore commerciale di 159 euro. Il prodotto è corredato dal libretto Skagen e come vediamo dal contenitore anch'esso Skagen. Andiamo a vedere l'offerta co-credit metà prezzo, quindi abbiamo detto che il prodotto ha un costo di 159 euro, su cui pur avendo la formula di pagamento relazionato, co-credit metà prezzo comunque riconosce lo sconto per contanti del 5%, quindi meno 5%. Il prodotto viene a costare 151 euro. Come si pagano questi 151 euro? Si pagano 75,50 euro, si pagano nel momento in cui si prende l'orologio, quindi nel momento in cui si fa la commissione, si fa l'ordine e gli altri 75,50 euro invece si pagano esattamente a 60 giorni dalla data della consegna dell'orologio. Quindi 75,50 euro subito, per questo la definizione di co-credit metà prezzo, e altri 75,50 euro si pagano esattamente due mesi dopo della data in cui è stato realizzato il contratto. Stavamo parlando di un orologio danese Skagen, di una marca danese Skagen, il modello SKV 28,74, costo consigliato dal produttore 159 euro. Grazie sempre per ascoltare Marco Calabro qua per conto di co-credit metà prezzo e arrivederci, lo mettiamo in maniera che si possa vedere un poco meglio, e arrivederci al prossimo video.